Il coro del Poli è nato da alcuni mesi, è stata un'iniziativa direi di un gruppo di docenti inizialmente che hanno parlato con alcuni allievi e hanno raccolto questa intenzione di incontrarsi e fare musica praticamente. Il coro è aperto a tutti quanti, a tutti coloro che vogliono parteciparvi, insegnanti compresi. Non facciamo distinzione tra chi ha più esperienza musicale, tra chi ha esperienza corale o meno. Abbiamo due piccole esibizioni giusto per far provare l'ebrezza della performance live ai nostri cantori. Una sarà il 7 di giugno a San Salvario e la seconda occasione è nel cortile del Politecnico l'11 di giugno in cui possiamo dimostrare brevemente ciò che abbiamo imparato in questi pochi mesi, in queste poche settimane. Ci troviamo tutti in mattedì alle 19 in aula 5D. Le nostre prove proseguiranno fino alla fine del mese di giugno e poi contiamo di riprendere con un'altra pubblicità forte presso gli studenti, i docenti, i non docenti a metà di settembre circa per organizzare un primo vero concerto serio nell'autunno. Iniziamo il primo vero concerto di riprendere con un'altra pubblicità forte